Qual è la partita di Ancona? Non ho i cambi da poter fare, Fiamozzi era molto stanco, non avevo un cambio da fare, Luciani non avevo il cambio di Luciani. A centrocampo ho dato un po' di minuti a Fausto perché sicuramente mi era molto utile, anche a Sciaudone. Quindi è chiaro che in quel momento lì che hai in campo anche giocatori che hanno poco minutaggio ci sta anche un po' di sofferenza finale, mi hanno fastidito un po' aver subito quel gol. Anche perché si rischia di riaprire partite che anche nella gestione della gara ti creano qualche criticità, avrei voluto fare dei cambi diversi. Oggi purtroppo il primo cambio me lo sono giocato troppo presto e ho dovuto capire cosa fare dopo, anche per risparmiare qualche difidato. Era giusto secondo me chiudere la partita nel primo tempo, che avevamo avuto tutte le occasioni, sarebbe stato più semplice nel secondo. Sì è chiaro, poi onestamente il gubbio, generalmente le squadre di Mister Braglia sono abbastanza battaglieri sotto questo punto di vista. Noi non dovevamo cascarci, anche perché avevamo Giuliano in diffida. Sarebbe stato veramente stupido perdere magari un giocatore di quel livello adesso per una mezza rissa, anche perché il risultato era acquisito. Però è chiaro, apposta in paglia adesso cominciano a diventare molto importanti i punti. Un po' di nervosismo, anche la paura di subire magari la seconda rete ti porta anche a un po' di nervosismo. Devo dire che con i cambi ci siamo rialzati un pochettino e va bene così. Cremonesi si è avuto questo episodio, lo valuteremo. Devo dire che dovrebbe rientrare Cristobo, dovrebbe rimetterci anche Paolo più allenamenti. Devo dire che abbiamo ritrovato Kautz, che ha fatto una partita quasi per intero, un giocatore completamente recuperato. Su Muroni, su Kabashi, su questi, io credo, mi auguro che in settimana di ritrovarli, così come anche Ugliel Motti. È chiaro che bisogna dargli una valutazione, soprattutto su quelli che sono ferme un pochettino più di tempo. Però mi è piaciuto il fatto che gli ho dato minutaggio anche a Fausto, che sarà un giocatore che deve entrare importante. Anche a Rosafio mi è dispiaciuto che non abbia fatto gol, perché è un giocatore che ha bisogno proprio di questo in questo momento. Per sbloccarsi un pochettino, quindi va bene, il percorso va avanti bene e ci prepariamo alla prossima partita. Sappiamo l'importanza della gara, ma sappiamo l'importanza, la caratura dell'avversario, che sicuramente è al nostro livello, molto alto. Quindi sarà una bella gara da fare, saremo in uno stadio pieno e credo con tanti nostri tifosi. Io ricordo sempre a tutti che dopo il Cesena ci sarà la Carrarese, la Canatese, l'Ispesaro, Rimini, Fermana, Olbia, Imolese. Insomma, il campionato non finirà sicuramente lunedì. Luca lo stavo già sostituendo un minuto prima. Ha fatto un piegamento col ginocchia, non credo, mi ha detto lui, credo niente di importante. Poi adesso lo so che voi, spesso dico così, poi il giocatore non c'è la domenica. Spero di essere, insomma, lui però mi ha detto niente di che, mister, se non ci sarà, ragazzi, ci sarà qualcun altro. C'è Fausto che rientrerà, c'è Cavascio che rientri, Spero che rientri, Muroni anche. Beh, sai, ragazzi nuovi, nuovi, tra virgolette, siamo ormai a febbraio inoltrato, hanno sempre bisogno di tempo nella nostra metodologia di lavoro e tecnico-tattica. Hanno sempre fatto un pochettino fatica a tutti a entrare, un po' per quello che gli viene chiesto, anche perché hanno bisogno di una buona condizione atletica. La stiamo ritrovando, nel senso che Vallocchia è quello che ha avuto più minutaggio e adesso infatti comincia a beneficiare, perché il giocatore è quello, se l'abbiamo preso è quello. È chiaro, deve metterci di più fiamozzi. Poi verrà il tempo anche di Capone, oggi purtroppo non avevo il quinto cambio, quindi non ho potuto avere un cambio in più e quindi non ho avuto tempo, ma sono i giocatori che poi dovranno fare uno sprint finale importante, così come quelli che sono fuori da tempo. Io credo che sia il suo ruolo, lui è un centrale di difesa 4, io l'ho conosciuto lì, l'ho fatto giocare lì anni fa. È un giocatore che in questo momento può giocare anche punta, quindi ha una spessore mentale in questo momento, è fisico, è trascinante sotto tutti i punti di vista, quindi dispiace solo che non l'avete già potuto vederlo dallo scorso anno per un infortunio grave che ha avuto, ma il giocatore è questo. Insomma, Scintilla-Lanini, non so quanto è arrivato di gol adesso, perché non tengo i conteggi io, però 10, 9, è un po' che Scintilla-Lanini è partita, è chiaro che ha avuto delle occasioni anche per raddoppiare, ma è un ragazzo che credo che dopo Natale abbia fatto un salto di qualità negli allenamenti. Ho visto che hanno richiamato tutti, quindi ero lì anch'io, e ho detto, no, non credo che era nulla di preparato. In realtà io sono andato lì per rimproverare un mio giocatore perché aveva sbagliato una diagonale, però quando ero lì mi sono preso anch'io il mio ceffone in faccia. Noi avevamo preparato su un'aggressione molto alta loro e volevamo sbucare fuori dalla prima pressione, e infatti così è successo per fare gol. È chiaro che con questa pressione che ci mettevano qualche errore tecnico l'abbiamo fatto. Chiaramente Cremonesi non è pulito tecnicamente in questo momento perché fisicamente non sta bene, lo stesso Kautz è entrato ma anche lui un po' con difficoltà tecnica. Si svede dagli sbagli, ha lo stesso Fiamozzi, è chiaramente non ancora in condizione. Qualche errore è stato fatto, sì. Però in questo momento mi interessava l'atteggiamento giusto, abbiamo rischiato tutto sommato nel primo tempo, intendo molto poco. Jack è stato molto bravo, ha dato grande sicurezza. Quando poi verrà anche Paolo, quando rientrerà sicuramente non sarà puritissimo a livello tecnico. Questi calciatori, siccome sono molto forti, e siamo abituati a vederli molto forti sempre, anche tecnicamente, se hanno un po', se sono leggermente sotto tono, li si nota subito. Devo rivederlo, mi sembra che ogni tanto qualche calo di tensione ce l'abbiamo, abbiamo concesso questa palla dentro, devo rivederlo onestamente. Sì, sì, no. Ho visto un cartellino rosso diretto verso di me, però per fortuna ha piegato un attimino, il direttore si è immolato per me, è uscito lui, no, però ha detto subito, fuori il direttore, mi sono un attimo scaldato, ma leggermente, ho fatto di peggio. No, non avrei mai voluto perdere una partita come questa, come la prossima. Ormai sono un po' di partite che tra una cosa e l'altra, insomma, viviamo sempre un po', non nell'emergenza, perché l'emergenza è altro, assolutamente. Quando colpisce un reparto diventa un po' fastidioso, anche perché, ripeto, oggi Luciani è stato veramente identico, credetemi, credo che l'abbia fatto per lui e forse l'ha fatto anche un po' per me. E questo mi inorgoglisce. Cremonesi mi ha dato la disponibilità a giocare, e me l'aveva dato anche Paolo, nonostante avesse tre, due, venti minuti di allenamento nelle gambe. Ecco, questo, soprattutto, credo che sia la cosa più importante. Giocatori che in questo momento hanno un focus chiaro in testa, e danno la loro disponibilità a qualsiasi scelta che fa l'allenatore. Ma sì, ma io, per come viviamo noi le partite, per come noi dobbiamo avere una visuale un po' più ampia, credimi, arrivare a più uno, arrivare a più quattro, credo che la partita avrebbe una tensione importante allo stesso addosso, non vorrei perdere. Io credo che il risultato della partita avrebbe condizionato, se tu fossi più uno o più quattro. La responsabilità è più loro, la pressione è più su Cesena. Non credo proprio che sia solo su Cesena la pressione qua a Reggio Emilia. Assolutamente. Su di me di sicuro ci sarà, è questo sicuro. Ma che sia su di me, non sulla squadra, è meglio. Ma noi siamo abituati a questo tipo di gara. Credo che l'anno scorso, che era quest'anno, che fosse il Modena, che fosse l'Entella, che fosse il Cesena, che sia un'altra squadra, questa squadra ha la caratura necessaria, fisica, tecnica e mentale, per poter disputare queste gare di grande livello. E io sono felice di fare una gara... Ehi, ci mi sento in Serie A a fare una partita di questo livello. Elvis dovrebbe riprendere gli allenamenti tra... Adesso noi riprendiamo mercoledì, se non è mercoledì è giovedì. Farà l'ultimo controllo mercoledì, ma dovrebbe essere a disposizione. Sì, anzi, ne ha approfittato anche, perché lui soffre un po' di infiammazione al ginocchio, ne ha approfittato anche questa settimana per recuperare, per curarsi anche un po' il ginocchio, perché ha sempre avuto qualche problemino. C'è sempre un discorso per chi fa gli anni, durante il pranzo della partita, quindi aspetto quello, perché, insomma, Cabasci gli fa un discorso... Lo aspetto! Era importante perché abbiamo portato a casa i tre punti e abbiamo continuato il nostro percorso, che aveva lo stesso valore di tutte le altre, perché se avessimo vinto la scorsa non staremmo parlando di questa partita in questa maniera, secondo me. Sono felice che abbiamo portato a casa la vittoria. Sono contento perché dopo otto mesi che mi mancava la titolarità e l'ho ritrovata. Sono contento perché ho aiutato i compagni, ho cercato di dare il mio massimo, ma è logico che mi mancano delle dinamiche che ti dà solo la partita. Fisicamente mi sento bene, però, quindi sono contento. C'è solo da continuare a lavorare in settimana con entusiasmo, con voglia, con passione, però quello che posso dare sicuramente è molto di più, quindi sono sereno perché so che arrivo. No, no, il mister mi ha lasciato tranquillo, mi ha lasciato sereno, mi permetto di esprimermi come volevo e di dare una mano ai ragazzi. Sì, sì, è logico che quando si vince, la sera che si ottene il risultato, si festeggia, siamo felici, ma da domani si pensa già alla prossima partita come tutte le altre. E così da domani inizieremo a concentrarci sulla prossima. Sì, sì, era una squadra che potenzialmente poteva essere pericolosa, però penso che sia stata molto sterile, nel senso che poi magari palleggiavano bene, cercavano di palleggiare, ecco, e poi quando arrivavano a un certo punto abbiamo difeso bene, ecco. Non c'è nessuna riga? Sì, quindi è per questo che dico che erano sterili, in quel senso. Sapevamo delle caratteristiche dei loro attaccanti, quindi ero preparati ad affrontarli in una certa maniera. Sì, devo rivederlo, probabilmente sicuramente quando prendi gol si può evitare di prenderlo, a meno che non sia una giocata stratosferica, un tiro da 40 metri, si poteva evitare di prenderlo, dà fastidio prenderlo. Noi ci concentriamo su lavorare in settimana per cercare di evitare di magari riaprire delle partite che sinceramente non c'è partita. Ecco, scontro. Oggi non c'è stata partita, secondo me. È ovvio che poteva finire anche tanto a poco questa partita. Su questo si deve migliorare, chiaramente. Si deve essere più cinici, più cattivi, però solo con il lavoro si può migliorare. No, beh, finora in casa comunque il pubblico è stato sempre presente e si è fatto sentire. Quindi i due gol all'inizio hanno aumentato ancora di più l'entusiasmo. Ecco, quello sì. I fogli sono sempre presenti, si fanno sentire, quindi capiscono anche magari i momenti di una stagione e quindi sanno che questo momento è importante per tutti e quindi ci sono. Le pressioni in una partita importante ci possono essere, quindi sia da una parte che dall'altra. È chiaro che se il risultato sarà favorevole poi dopo sono problemi per loro perché alimenterebbe ancora di più il nostro entusiasmo che è già alto. Ma entusiasmo positivo, nel senso di aver voglia di fare, di dare, di aiutarsi, di sacrificarsi, di impegnarsi. Poi magari dipende anche dall'avversario che affronti. Se magari l'avversario che affronti è in grado di farti arretrare il baricentro, eccetera, è chiaro che poi dopo davanti sono spazi più grandi e hai le caratteristiche giuste per attaccarli quindi ci sta che fai delle ripartenze. Sono le cose belle del calcio, i momenti per i quali vive un giocatore. lo stadio con tanta gente, con tanto tifo, entusiasmo, partite belle da giocare. Queste cose ti danno solo, secondo me, piuttosto che toglierti. Quindi è bello giocare queste partite faremo il nostro massimo come sempre e cercheremo di portare a casa quello che tutti vogliamo. È stata una reazione importante e credo che abbiamo fatto una buonissima partita dall'inizio alla fine. Diciamo che almeno io dal punto di vista personale non ero preoccupato dopo la sconfitta di Ancona anche perché non è stata una sconfitta magari come è capitato altre poche volte dove la squadra non era in campo eravamo disuniti è stata una partita comunque abbiamo provato a giocarcela fino alla fine magari il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto quindi ci sta che in un campionato ti capiti una partita dove hai degli episodi un po' contro non riesci a portare a casa dei punti però c'è stata una reazione importante non abbiamo sbagliato l'approccio la partita che è sempre importante io la mia prestazione la valuto positivamente al di là del gol mi sono sentito bene in campo credo di ricercare un lavoro importante anche per la squadra perché voglio e spero che possano trovare trovare in me una sicurezza lì davanti un giocatore che cerca di lottare su tutti i palloni e poi sicuramente arrivano anche le soddisfazioni personali facendo così sì ma credo che sia a merito di tutti perché abbiamo un gruppo importante è numeroso quindi anche chi magari non era abituato a giocare con continuità si fa trovare pronto perché la mentalità e l'obiettivo e il focus è comune quindi credo che il risultato di queste prestazioni nonostante magari potessimo essere un po' incerottati sia questo e credo che ci sia da dare anche tanto merito a questa cosa perché non è mai facile credo che tutti siamo soddisfatti della prestazione e di come siamo stati in campo e questo ci aiuta a creare ancora più consapevolezza di noi stessi in vista di queste ultime partite ma secondo me è diversa o no perché se insegui o vieni inseguito comunque l'obiettivo con il quale tu devi scendere in campo è quello di fare di tutto per vincere la partita credo che veniamo da delle buone prestazioni ci metto dentro anche Ancona salvo qualche svista che siamo andati poi da realizzare è sempre bello andare a giocare queste partite sono sicuro che ci sarà un bel clima e io sinceramente non vedo l'ora di giocare una partita così sì sì sicuramente magari in questo momento è un Lannini più in fiducia più consapevole perché viene da della continuità da dei gol però sì sicuramente come ho detto prima il fatto che io ricerchi soprattutto in questo momento un lavoro per la squadra importante mi dà una consapevolezza ancora maggiore di quella che magari ti può dare no maggiore, diversa da quella che ti può dare un gol poi se viene anche il gol diciamo che sono la persona più felice del mondo poi cerco di mettere le mie qualità a disposizione della squadra se c'è da tirare il rigore l'ho tirato tra l'altro è andata un po' così perché con il nostro mister dei portieri noi analizziamo giustamente anche noi i portieri doveva giocare un altro portiere titolare è cambiato e ci eravamo detti che magari era un portiere che potesse partire prima sul rigore quindi il focus e l'obiettivo era quello di tirarlo lo volevo tirare forte non tanto alto per non rischiare centrale e quando ho messo il piede d'appoggio ho tirato un attimo sulla testa l'ho visto completamente immobile quindi ormai da piazzarlo non c'era più perché io poi parto per tirarla secca e l'ho angolata un pochettino e sono stato poi fortunato a farla entrare per quanto riguarda Ross io penso che sia un ragazzo prima che un giocatore straordinario quindi nel momento in cui è entrato ho puntato subito l'uomo appena fatto un passo glielo ho data e diciamo che ero il primo lì che speravo con tutto mi stesse facesse gol soprattutto anche per lui ma un bomber come te significa essere altri sì sì no in quel momento l'obiettivo era soprattutto quello di riuscire a far far gol anche a lui secondo me abbiamo trovato una buona quadra dal punto di vista dell'impostazione dello schema e del possesso palla magari nel periodo dove andavano le cose un po' meno bene a livello di squadra magari anche noi attaccanti come tutti si faceva un po' fatica nel trovare i nostri automatismi ma ci poteva stare perché è una squadra completamente diversa con un modo diverso di giocare e quindi magari ne ho risentito in parte anch'io i pellegrini vi trovate molto di cercare credo che in parte abbiamo un po' anche delle caratteristiche simili perché anche lui è un attaccante dinamico non è magari statico ha sicuramente delle buone caratteristiche anche di palleggio però nel momento in cui per un'azione devo tirare il piatto io o qualcuno che magari mi attacca alla profondità anche lui e quindi magari posso venire a legare il gioco io però diciamo che penso che ci stiamo trovando bene i risultati stanno venendo aspettiamo solo le vostre punizioni se siamo vicini e l'ho detto prima della partita che sarebbe bello farlo perché quest'anno ancora non ne ho fatto uno però speriamo di farlo in una partita che... quella punizione lì il portiere era un po'... sì 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 arriverà anche quello adesso sono sicuro ma cambiato sicuramente qualcosa è cambiato però io sono dell'idea che magari non ero scarso prima non sono forte adesso nel senso sono sempre io ovvio che magari un giocatore soprattutto come penso di essere io che probabilmente magari è un limite ha bisogno tanto di essere un giocatore dentro di sentirsi importante di vedere che quello che sta facendo serve magari nel momento in cui ho visto che le cose non giravano bene ci ho messo un attimino però poi la mia ambizione, il mio desiderio, la voglia di andare a prendermi un obiettivo di tornare a risentirmi magari come mi sto sentendo adesso ho fatto sì che io ripartissi dalle cose più concrete ovvero quella rincorsa in più, quella voglia quel dare di più in allenamento ero sicuro che sarebbe stata la strada che mi avrebbe portato poi a riavere le possibilità per mettere le mie qualità a disposizione della squadra però sì sicuramente ad oggi forse è un pensiero un po' più maturo nel dire che voglio mettermi nella posizione di far sentire anche alla squadra di avere una sicurezza, di avere una mano al di là dei gol che quelli sono magari una mia qualità proprio anche dal punto di vista della presenza in campo e del lottare su ogni pallone e del lottare su ogni pallone